Sono io. Ok. L'ultimo ho sparato uno scavo di sopra e c'era un tizio che sparava ancora verso sinistra. Uh, chi è quello che corre lì? No, ha un stile. L'ho ucciso. Poteva essere lui. Ok, due stili, due player alla casetta, ma uno verso il punto di manca. Tutte tizioni, tiro. Verso? La casetta. Shax. Si rivedo. Vai pure. Ne ho fatto uno. Ah, li abbiamo fatti tutti. Lo vedo che corre. Lo vedi da lì, lo vedi da lì, eh? Sì, 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 sì. Mi sposto. Sdraiato dietro l'albero. L'albero l'albero. L'albero l'albero. Grande. No, non è tutto. Sdrai. 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 ho appena droppato un player full guarda verso di me e lui sta venendo da qua l'ho droppato raga a posto scavo la nostra io sono fermo schizzo sei tu nelle foglie che continui shhh shhh no sei tranquillo fermo eh eh Sturman mi ha fatto infatti ho droppato Sturman eh questo qui aspettava che aprirsi la market ho appena droppato un altro scavraider vieni in gas station c'è il loop eh no mi si è anche morto perché non ci si un player io ok muore c'era scialla qua che ho fatto ecco ecco sto pushando dentro io io sono dentro vai io sono nei bagni dietro di te l'ho fatto vabbè vabbè sta facendo struito io no no non sei tutta sinistra no cioè aspetta dove ci sono le tende che c'è ho appena fatti un player un player o qualcosa non no non è stato il stesso ti andami tu cammati tratto ti andai cammati nelle orde è venuta 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 l'ho uccasso Ah!